Ciao, stavate primo giugno ho partecipato a un workshop organizzato dal gruppo ST. In questo workshop, attraverso le spiegazioni di Paolo Ruffini, Christopher Castellini, Stefano Timolina e Alessia Foglia, ho imparato veramente molto. Inoltre questa esperienza, oltre ad essere del tutto interessante, è un'esperienza formativa che consiglierei a chiunque e che io rifarei in prima persona. Un bacio!